Ciao ragazzi, benvenuti a questa vocal ride molto speciale intitolata Mad World. Su queste note di un mondo pazzo, sparisco e rimane la mia voce. Con le immagini ci vediamo al defaticamento. Stringo uno, stringo due e scendo in crono. Via. Due, andiamo. I dribbidi partono. Se l'ascolti con il cuore, non puoi non sentire i dribbidi. Ciao ragazzi. Doveva darti ancora il peggio di se servono forza e il coraggio. Grazie ragazzi. Ettore, vieni a salutare. No, no, non sente l'energia. Non gli piace questo Mad World. Di e l'organ asko, come dai, nonで, ma illa. Grazie. Una storia parte. Ahihood. No! Ni no! todas! Grazie a tutti.